et voilà nel giro di una manciata di giorni alex belli ha fatto dietro front praticamente su tutto al grande fratello vip l'ultima giravolta a 360 gradi è arrivata la scorsa notte dopo aver cambiato decisamente atteggiamento nei confronti di aldo montano che invece ha tenuto la schiena drittissima senza indietreggiare di un millimetro aver subito una forte strigliata da katia ricciarelli inizialmente l'attore ha fatto spallucce ma poi ha accusato il aver mutato pensiero su delia duran dal lei non mi ha sostenuto alle riflessioni che forse lui stesso non ha proprio avuto un atteggiamento impeccabile ecco che è caduto l'ultimo suo baluardo solei non mi attrai fisicamente ha chiosato chiacchierando a notte fonda con sofico de goni a me piace ascoltare il suo punto di vista quando abbiamo fatto il giochino dei baci cinematografici se lì ci fosse stato qualcosa di fisico lo avrei sentito io in quel bacio lì non ho sentito niente così l'attore parlando con sofì e ancora non mi attrae da quel punto di vista lì ma come e quando sottolineava senza se e senza ma in maniera più che convinta che con l'italo americana c'era la cosiddetta chimica cosa significa chimica non vuole forse dire che c'è un'innata attrazione fisica tra due persone certo è che belli è stato protagonista di parecchie piroulette negli ultimi giorni diversi telespettatori hanno più notato che nonostante alex abbia ripetuto a più non posso che non aveva nulla da rimproverarsi in relazione ai suoi atteggiamenti con solei e che dunque non avrebbe cambiato il suo comportamento in realtà dalla giovane si è staccato non che non le rivolga più la parola infatti sono sempre pappa e ciccia ma i contatti fisici quelli che tanto stanno facendo penare sua moglie delia duran questo almeno è ciò che ha sottolineato la modella sono venuti me